Buongiorno ragazzi, poi cavoli e benvenuti in questo nuovo video Portogallo gana 3 a 2 Questi l'hanno vinta per il rotto della cuffia Questi l'hanno vinta per il rotto della cuffia Ma che squadra è? Che squadra è il Portogallo? Una squadra imprevedibile Una squadra imprevedibile Raga, ha vinto al rotto della cuffia 3 a 2 contro il Ghana ragazzi In questo momento è primo nel girone Secondo la Corea del Sud, terzo l'Uruguay E quarta il Ghana ragazzi Partita che veramente poteva finire in tutte le maniere possibili Poteva finire veramente in tutte le maniere possibili Prima di cominciare ragazzi vi invito a iscrivervi al canale A commentare e soprattutto a mettere un sacco di mi piace Perché ovviamente se ti arriva un sacco di mi piace Continuerò a portare le post partita del mondiale ragazzi Ovviamente Portogallo che oggi vince per il rotto della cuffia Un gol di Cristiano Ronaldo, un gol di Joao Felix E un gol di Rafael Real ragazzi Tre gol che salvano il Portogallo Ovviamente il primo gol lo segna Cristiano Ronaldo sul calcio di rigore Il pareggio poi del Ghana ragazzi Con Andrea Yu Propriamente il 2 a 1 Anzi il 3 a 1 ovviamente lo segna Joao Felix 3 a 1 Rafael Real ragazzi Propriamente il Ghana prova all'ottantanovesimo A rientrare partita Ma purtroppo non ci riesce Finisce 3 a 2 E secondo me il Portogallo ve lo dico adesso Non penso che vince il mondiale Però comunque lo vedo che va abbastanza lontano Se vince il mondiale ragazzi Sarebbe clamoroso Cristiano Ronaldo finalmente Vince il suo primo mondiale E forse anche il suo ultimo Però ragazzi Bella squadra Bella squadra Il Portogallo Secondo me Poteva evitare il secondo gol Però comunque ha vinto Ed è in questo momento Lo ridico Primo nel giro Ragazzi In questo momento Secondo me è tra le favorite Tra Spagna Portogallo Ovviamente il Portogallo Poi c'è anche l'Inghilterra Il Brasile La Germania Non penso che passi il gruppo Ragazzi Però mai dire mai Mai dire mai ragazzi Il Portogallo comunque è una forza Come la Spagna Però comunque si affronta La Spagna Secondo me Secondo me Beto la Spagna Vincere la partita ragazzi E buttare fuori il Portogallo Perché può succedere Però comunque mai dire mai Mai dire mai ragazzi Perché nel calcio Specialmente Nel mondiale Può succedere Letteralmente di tutto ragazzi Detto questo Ci vediamo nel prossimo video Ciao ragazzi Sempre sulla Forza Juve Iscrivetevi al canale Partitone grandissimo Partitone grandissimo Peccato per il gare Complimenti a Portogallo Specialmente A Cristiano Ronaldo Ciao ragazzi